Buonasera a tutti, sappiamo benissimo perché siamo qui, penso che anche voi avete seguito oggi tutte le commemorazioni che sono state fatte, tutti i giornali, tutte le tv hanno riparlato di cosa è successo un anno fa, che è mancato Steve Jobs, noi siamo qui non per fare un'altra commemorazione, anzi vogliamo vivere questa cosa in modo un po' costruttivo, cioè come possiamo fare tesoro di Steve Jobs e andare avanti, Steve Jobs non era uno da mezze misure, quando pensava una cosa la diceva in modo molto schietto, in termini positivi o negativi ma sempre in termini assoluti, quindi non stiamo qui a nasconderci, allora facciamo un piccolo giochino, dividiamoci tra Mac e PC come ha diviso un po' lui il mondo, chi è Mac alzi la mano, chi è PC? Beh mi sembra che sia una buona rappresentanza, pensavo ci fossero più Apple fan invece, chi ha l'iPhone alzi la mano? Ok 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 bene, c'è una bella rappresentazione. Andiamo via. Quindi possiamo anche non dividere il mondo in due, rimaniamo seduti così e ci facciamo una bella chiacchierata. Per il timore che costruissimo l'ennesimo santino di Steve Jobs, io mi sono presentato qui con un bel libro voluminoso di quelli che lui sicuramente non gradiva, con un Windows Phone in modo che posso fare da avvocato del diavolo a tutti gli effetti e quindi possiamo iniziare. Vi presento chi ci racconterà un po' di Steve Jobs stasera, abbiamo Riccardo Bagnato che ha scritto un'autobiografia non autorizzata, una biografia non autorizzata, queste cose non autorizzata mi fa sembrare un po' effetto, però almeno ce n'è una autorizzata che conoscono tutti e una non autorizzata che vi consiglio di conoscere. Tu hai definito Jobs un mistico pioniere, poi ne parliamo. Abbiamo qua di fianco a me Fabio Lalli, che stamattina ha aiutato un po' le start-up a presentarsi, adesso ce l'abbiamo qua, lui è un vulcano di idee, chi lo conosce sa che lui è veramente uno attivissimo, quindi stasera cerchiamo di fargli tirarlo un attimo fuori. Se non sbaglio tu paraprasando Severnini la devi definito come l'ingegnere di nostri sogni, quando è mancato. Perfetto, anche a te chiederemo perché. Abbiamo Michele Mezza, Michele Mezza per definire se stesso, io mi sono informato, ha usato le parole di Steve Jobs. Da ragazzo mi ero sempre definito un letterato, ma mi piaceva l'elettronica. Poi lessi che uno dei miei eroi, Edwin Land, inventore della Polaroid, aveva sottolineato l'importanza delle persone capaci di porsi all'intersezione tra discipline classiche e discipline scientifiche e pensai che era proprio quello che desideravo fare io. Sei riuscito? Ok. Abbiamo Mirko Lalli, responsabile marketing e comunicazione della Fondazione Sistema Toscana. Fino a poco tempo fa. Ok, quindi non era aggiornata la mia descrizione. Comunque alla clac qua, quindi. Sì, in realtà, fino a sono stato responsabile marketing della Fondazione Sistema Toscana per gli ultimi sei anni. Adesso c'è una nuova avventura, poi magari ne parliamo. Comunque anch'io ho usato le stesse parole, quindi è una frase che mi piace molto per presentarmi. Io partirei dal mistico pioniere. Tu hai scritto una biografia di Steve, quindi tu ci puoi raccontare, puoi introdurre un attimo, perché è mistico pioniere. Sì, buonasera a tutti. Beh, per chi tendenzialmente, per chi ha avuto modo di conoscere Steve Jobs attraverso i libri che sono stati scritti sulla sua opera, sulla sua azienda, su quanto ha fatto, forse è una definizione anche relativamente facile. Pioniere perché è stato uno dei primi a mettere in campo quell'intersezione fra umanesimo e tecnologia, intuendo alla fine degli anni 70, o a metà già degli anni 70, o addirittura all'inizio degli anni 70, intuendo quello che poteva essere il potenziale di quello che allora venivano chiamati semplicemente delle scatole calcolatrici, dei calcolatori, né più né meno, luci che si scendevano e luci che si spegnevano. È mistico perché alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, come tanti della sua generazione, aveva intrapreso un percorso spirituale, chiamiamolo, personale, alla ricerca di banalizzando se stessi più realisticamente una strada, una via per capire quale dovesse essere la propria vocazione. Di questo viaggio fanno sicuramente parte, almeno per citarli concretamente, due episodi. Il primo è quello dell'abbandono del college, poco dopo averlo iniziato e conseguentemente una vita fatta anche di ricerca del sostentamento quotidiano in ogni modo, dal raccogliere lattine vuote, ridarle per pochi centesimi e quindi mangiare, alla compagnia di amici in un ranch lontano nell'Oregon dove si coltivavano patate e si viveva un po' la vita di comune e il secondo episodio, quello forse più conosciuto, è il suo viaggio in India insieme all'amico Kockty, lo accompagnò ma lo abbandonò prima, ritornò prima negli Stati Uniti. Per questo, molto semplicemente, mistico pioniere. Una persona, e qui chiudo e lascio subito la parola ad altri o a chiacchierata. Mi piace ripetere perché dopo aver parlato, ho scritto di lui per un bel po' di tempo, ho avuto anche una certa pausa, una pausa di sei o sette mesi in cui sostanzialmente non ho più rintracciato le sue orme o cercato le sue informazioni. Quello che mi ha colpito e che forse può sintetizzare e rendere un po' più appetibile la brutale definizione di mistico pioniere è un imprenditore la cui ricerca della verità di se stesso e di quello che andava cercando, aveva quasi una perfetta sovrapposizione con quello che era, o era in perfetta sintonia con quello che erano i dettami del mercato e della commercializzazione che stavano prendendo forma. Cioè, in sostanza, quello che lui cercava in modo così naturale andò a collimare perfettamente con quello che si andava a formare nel mercato della pubblicità, del commercio, di come proporre e promuovere un prodotto. Concretamente il prodotto in sé non doveva solo ed esclusivamente funzionare ma doveva rappresentare, avere un senso che non fosse solo quello di consumo ma che avesse un senso nella vita di coloro che lo utilizzavano. Forse questo raggiungimento è una delle sintesi di quello che è stato un mistico da una parte e un pioniere dall'altro. Chiedo scusa se passerò davanti ogni tanto col microfono ma volevo chiamarti in causa. Lui ha creato un po' un'azienda a sua immagine e somiglianza. Abbiamo detto che era un mistico pioniere. Entrambi gli aggettivi alla fine vanno bene anche per l'Apple in qualche modo. Quando vediamo la gente in fila davanti agli Apple Store a urlare, a applaudire perché sono i primi a prendere il loro iPhone, cosa c'è in tutto questo? Dov'è che finisce il prodotto? Dov'è che inizia il marketing o comunque una dimensione che va oltre il semplice prodotto? Allora, il brand Apple è un po' un punto di riferimento per tanti paradigmi legati al mondo del marketing. Io credo che ci siano molte cose studiate ma molte cose siano anche dovute alla storia, allo storytelling del prodotto generato sia dalla figura di Steve Jobs sia dall'epopea della Apple. Classica azienda nata in un garage in cui ha vissuto dei momenti alterni, a un certo punto Steve Jobs se ne va in polemica, viene cacciato e così via. Quello che di solito dico, io uso sempre il brand Apple come esempio perfetto per quello che si chiama un love mark. Love mark è un concetto introdotto da Kevin Roberts, Kevin Roberts è il CEO di Saci & Saci che in un libro del 2006 introduce questo concetto di marketing puro. Un love mark è un brand al quale vengono associati, adesso ve la dico così in maniera un po' banalizzante, delle leve emozionali. E se voi ci pensate quanti love mark conoscete, cioè quanti prodotti voi acquistate non scegliendoli con l'emisfero sinistro del cervello ma con quello destro in maniera emotiva. La Apple è uno di quelli, la Apple non è un computer. Quando voi comprate un PC Apple, un computer Apple, non scegliete un hardware con determinate caratteristiche, molto spesso non sapete neanche che tipo di processore c'è, quanta memoria c'è, mentre un utente Android sa esattamente che tipo di processore ha nel suo smartphone. Un utente le dinamiche che vi portano a scegliere di acquistare prodotti Apple. E la dinamica del love mark funziona, Kevin Roberts parla apertamente nel suo saggio di innamoramento. Quando uno si innamora di una persona è portata a sceglierla indipendentemente dai suoi difetti. Giusto? È esattamente la stessa cosa. Scegliere un brand attraverso leve emotive vi apre un mondo di significati che sta dietro quel brand che sono in questo caso incarnati perfettamente dall'epopea di Steve Jobs. Non vogliamo santificarlo. Ha semplicemente una storia come ce ne sono altre tante, non stavo per dire decine, probabilmente centinaia in Silicon Valley. Lui ha avuto più fortuna, è stato più bravo a riuscire a raggiungere determinati risultati. Andavano tutti in India, probabilmente in un certo periodo. Molti hanno aperto una start-up in un garage, molti sono falliti, molti hanno avuto successo. Una cosa in cui sono stati molto, in cui Steve Jobs è stato molto bravo è stato di creare un meccanismo di storytelling antelitteram. Cioè ha fatto sì che il racconto della Apple diventasse pieno di significati e che ogni volta che si vede il brand con la mela, con il morso, scattano una serie di meccanismi che sono fortemente emotivi, anzi totalmente emotivi. Questo è marketing, probabilmente sì, per arrivare a raggiungere questi risultati ci si può lavorare, ma è così forte in questo tipo di brand, in questo tipo di prodotti da essere non percepito. e quindi è ancora più forte secondo me. Io sono d'accordo assolutamente con quello che ha detto Mirko sull'emozionalità del prodotto e la scelta. Aggiungerei una cosa, a mio avviso la Apple ha avuto il pregio, soprattutto dalla seconda era Steve Jobs, di aver centrato sempre comunque i tempi di uscita dei prodotti sul mercato, cosa che non è facile di solito quando si porta un prodotto sul mercato. Io sento spesso parlare di Apple come società che ha fatto innovazione tecnologica o innovazione, diciamo, sui prodotti. A tutti gli effetti è così fino a un certo punto. La Apple, a mio avviso, ha una caratteristica potentissima che è quella appunto della scelta giusta del prodotto portato sul mercato al momento giusto. Non so se avete visto nell'uscita dell'iPhone 5 di questi giorni moltissime persone si sono lamentate della mancanza dell'NFC a bordo del dispositivo. Io ero tra quelli che sperava nell'uscita dell'NFC a bordo del dispositivo perché avendo una società di sviluppo per mobile ovviamente per me sapriva un ulteriore mondo. A tutti gli effetti, però, ragionando un attimo sulle motivazioni che hanno spinto, secondo me, la Apple a non metterlo, c'è di fondo il time to market, cioè la scelta del mercato, la presenza di un'esigenza reale e soprattutto l'aspettativa e soprattutto la cultura da parte degli utenti di utilizzarlo. L'Apple è arrivata con l'iPod quando la Sony aveva praticamente educato il mercato con i Walkman. La Apple è arrivata con lo smartphone iPhone quando praticamente già altri avevano cominciato a muovere i primi passi sui primi smartphone come Windows CE, Palm OS. È entrata con l'iPhone e ha devastato praticamente il resto del mercato. È arrivata col tablet nel momento in cui non si è inventata il tablet l'Apple, è arrivata nel momento giusto quando le SIM, i dati e i primi operatori erano pronti, secondo me, a portare la connettività a bordo del tablet e ha creato un prodotto, a mio avviso, eccellente, nel momento giusto. Stesso discorso adesso con la scelta, per esempio, dell'NFC. Portare l'NFC oggi sul dispositivo iPhone 5 sarebbe stata una scelta, secondo me, di tempi, come posso dire, troppo in anticipo, perché le infrastrutture, la cultura delle persone ancora non è pronta all'utilizzo dell'NFC. Sapete, per alzata in mano, giusto per capire, che cos'è l'NFC? Quanti di voi sanno che cos'è l'NFC? Perfetto, questo, a mio avviso, secondo me, è la dimostrazione che l'Apple, giusto per dire, l'NFC è l'acronimo di Near Field Communication. Praticamente si intende tutte quelle tecnologie, diciamo, contactless, a sfioramento, che permettono di poter fare delle operazioni in prossimità, in vicinanza, praticamente, tra un dispositivo e un apparato che emette, praticamente, un passaggio di informazioni, appunto. E, secondo me, l'Apple non ha messo, appunto, l'NFC a bordo dell'iPhone 5, in questo momento, per questo motivo. Le persone non sanno ancora che cosa è l'NFC, le persone, le infrastrutture non sono pronte. Vi faccio un esempio, con l'NFC sarà possibile fare i pagamenti con il telefonino, al posto della carta di credito, per esempio. Nel momento in cui i dispositivi dovessero essere predisposti, uno si aspetta che le infrastrutture dall'altra parte siano predisposte per ricevere i pagamenti. A tutti gli effetti non siamo ancora predisposti per ricevere i pagamenti. Le banche, negli ultimi due anni, hanno fatto una serie di investimenti particolarmente importanti per portare i chip sui post, le carte, praticamente, con il chip, non so se avete visto, e con il PIN, per sostituire le carte con banda magnetica. Figuriamoci, se oggi sono pronte per fare un altro investimento, per sostituire tutti i posti d'Italia un'altra volta, per portare l'NFC. Quindi sarebbe stata una scelta eccessivamente sbagliata in termini di tempo. Hanno lasciato ad altri, in questo caso a Samsung, a mio avviso, che invece nel Galaxy 3 ha portato l'NFC ad altri che stanno portando, diciamo lo scotto, perché secondo me è uno scotto, dell'educazione del mercato. scotto perché educare un mercato è una fase particolarmente impegnativa, vuol dire investire, vuol dire spendere, secondo me, risorse per educare. E non è detto che nel momento in cui hai educato il mercato, l'utente rimanga da te. Anzi, a mio avviso, probabilmente, visto che questi qui saranno due anni di educazione al passaggio a tecnologie contactless, punto di prossimità, non è detto che nell'iPhone 6, paradossalmente, l'Apple metta tecnologie di prossimità sbaragliando quello che è praticamente stata la penetrazione di altri. Semplicemente perché comunque loro hanno un numero di dispositivi nel mercato talmente tanto alto che nel momento in cui escono con la versione nuova, rimpiazzano ed entrano in modo abbastanza massiccio. Ovviamente questo è il mio punto di vista, però credo che la loro scelta dei tempi di uscita sul mercato sia stata fino ad oggi sempre particolarmente puntuale e devastante allo stesso tempo. Magari uscirà nell'iPhone 5S, se ci sarà anche questa volta. Però abbiamo parlato, qui stiamo parlando di iPhone, di iPad, di iPod, però Steve Jobs va oltre. Cioè, Michele, nel momento in cui lui è andato alla Pixar, lui ha trasformato anche la Pixar, lui l'ha resa leader, quindi non c'è soltanto il brand Apple, lui non ha creato la magia soltanto lì, lui è riuscito a crearla anche altrove e spesso l'ha creata mettendo la sua persona davanti all'azienda. Ma quindi allora, se lui alla fine non ha inventato niente, qual è la capacità di Steve Jobs? Qual è stata? Allora, diciamo che io mi accollo il ruolo di fare l'unico dissidente della taulata, sennò qui finisce con un'ora di pianti e di novene in memoria di sua santità. Allora facciamo una cosa, vi faccio anch'io un sondaggino così mi aiuta. Diciamo che le signore sono esentate per questione di età che non mi permetterei mai di adombrare, ma fra Beatles e Rolling Stones, quanti Beatles e quanti Rolling Stones, che era la grande divisione, chi si è identificato con i Beatles e chi... Allora, chi è... insomma, per i Beatles in sala? E chi per i Rolling Stones? Ecco. Perché dico questo? Perché oggi, per una demoniaca coincidenza, sono due gli anniversari, e tutte e due Apple, perché oggi è il primo anniversario della scomparsa del Pro de Steve ed è il cinquantesimo anniversario del primo disco dei Beatles, Love Me Do, Apple. Allora, il richiamo diventa Jobs era Beatles o Rolling Stones? Io dico che non era l'uno nell'altro, lui era Elvis Presley. Se non sbaglio si è schierato più con i Beatles. Sì, ma lui non era neanche nessuno nell'altro. Perché? Allora, io, insomma, non ne so nulla di quello che sanno loro, per cui sono una capra in tecnologia, faccio il giornalista, per cui potete immaginare, più lo faccio alla Rai, per cui figuratevi, i drammi che vivo quotidianamente, in cui c'ho ben altro per la testa. Detto questo, però, mi occupo un po' di questi giochettini anch'io, e mi occupo di storia della tecnologia, per cui se devo dare una cifra al personaggio, siccome in storia ci sono due categorie, ci sono i personaggi soggettivi e quegli oggettivi. Quegli soggettivi sono quelli che, per quello che fanno, hanno un certo valore. Quegli oggettivi è che hanno un valore per quello che rappresentano. Napoleone, a prescindere che avesse delle smodate ambizioni e ipoteve, ha un emblema che è la rivoluzione francese, e l'eversione dell'Europa contro i regnanti, a prescindere. Ecco, Steve Jobs è stato un personaggio soggettivo. Cioè, è un personaggio che si è fatto in quattro, ha fatto cose geniali, loro ne hanno raccontate alcune, però è sempre stato l'ultimo dei vecchi, io penso, e non il primo dei nuovi. Almeno io provo a proporvela così. E noi il punto, insomma, fondamentale, lo vediamo quando compriamo questa cosa qui, in tutte le sue versioni, che io considero uno scandalo, quando noi apriamo quella che lui chiamava sexual touch, proprio la sensualità del tocco quando si apre il pacco dell'iPad. Insomma, non so a chi vi sarà capitato a parecchi, anche se poi per pudore dicono io l'iPad quando mai, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, dalle cifre così ci dicono, che qualcuno l'ha comprato in questi anni. Quando si apre, si attacca, e che cosa appare sullo schermo? Io la faccio breve, la sintesi è, amico, io contene anche ti parlo, se non mi dai il numero della tua carta di credito. Questa cosa abilita a parlare e a operare a partire dalla carta di credito. Non buono. Mi dispiace, ne ha inventate di cotte e di crude, si è fatto la pizza, però la rete è un'altra cosa. E siccome lui così, con questo giochino, ha raggiunto 600 miliardi di capitalizzazione, cioè distruggendo tutti i colossi dell'economia, della storia dell'umanità, non c'è nessuna azienda che ha messo insieme tanto denaro come quella, per cui, ma che gli vuoi dire? Tanto di cappello. Però non è la storia. La storia è quando cambia il paradigma. Ha fatto l'icone? No, ha copiato l'icone. Ma giustamente, perché insomma anche Picasso diceva io non dipingo, rubo. Giusto. Un genio sceglie, è andato dalla Ranceros e si è fatto l'icone. Ha fatto la Pixar? Insomma, Toy Story è un linguaggio strepitoso. Però la rete è un'altra cosa, cioè l'economia, la cultura, la pratica, la dimestichezza digitale, è un'altra cosa. È quella cosa per cui Android sta raggiungendo il 40% della quota di mercato. L'iPhone è al 29%. Allora, il punto è Steve Jobs ha segnato, insomma, questi passaggi. È vero. È stato il primo a segnare questi passaggi? No. Non è stato il primo. E in questo paese, questa città dimostra che non è stato il primo. Perché nel 1957 in questa città poco vicino, barba vicina, ci fu il primo progetto di Personal Computer programma 101. Questa città. Poi adesso è inutile fare. Però in questo momento a Washington, allo Smithsonian Museum, c'è un convegno il cui titolo è Steve Jobs, due punti, l'italiano. E perché? Perché loro sostengono che l'elemento distintivo di tutta questa partita è stata la questione del design. Ma non il design come cultura della bellezza, del perfezionismo, poi, ha detto, ma no, Isaacson ci ha fatto insomma, sul perfezionismo di Steve Jobs, ci esce dagli occhi, ma come linguaggio del sistema utente. Il design è il motivo per cui io incateno, insomma, lo spiegavi splendidamente tu prima, incateno il mio utente ha la scelta del mio device, a prescindere se gli chiedo il gruppo sanguineo, lo stato familiare, cioè se gli chiedo dei pedaggi. Ma anche questo fu copiato da pari a pari. Lui nell'81 ad Aspen ha il famoso incontro con design italiani e da quel momento parte quella fase ossessiva che lo vede. Ora, il tema qual è? E chiudo. Un gigante del marketing. Un gigante, io penso, della sociologia. Lui, la sua vera, io penso, frase storica è noi vinciamo perché Apple si colloca all'intersezione tra scienze umanistiche e tecnologia. ed è vero, lui aveva una straordinaria capacità di leggere i processi sociali, non tecnologici. E come spiega Virgin Cher, l'inventore del web, internet non è un fenomeno tecnologico, è un fenomeno sociale, relazionale. Lui questa cosa l'ha trasformata e l'ha messa in una scatola e ne ha venduti milioni di copie. Ora, però, il punto è capire, lui era nello spirito del tempo, lui è stato un elemento, ma persino rispetto alla vicenda di Adriano Olivetti. Ecco, io penso di no e penso che l'unico vero regalo che lui ha fatto alla Apple è stato, contrariamente a quello che penso un altro, è stato ma Tim Cook il quale non lo so se per inconsapevolmente è un genio perché non sta riproducendo la caricatura di Steve Jobs cercando, ma infatti lui viene chiamato mister I am sorry perché a differenza di quello che diceva siamo i migliori e dice no guardate scusate abbiamo sbagliato ha le mappe perdonatemi perché sta io credo ma poi voi ne sapete più di me impostando quella che sarà una straordinaria ritirata rispetto a quello che loro prevedono da quello che si legge come la grande offensiva dell'uso rispetto al possesso in rete ecco la partita tra uso e possesso io credo che sia quella elemento quel crinale su cui Apple è arrivata al massimo del possesso e ora dovrà come dire governare la ricollocazione in un mercato che tendeva sempre più ad essere un mercato d'uso io volevo solo agganciarmi a un passaggio sugli esperti degli studi e delle dinamiche sociali che fondamentalmente è strettamente legato a quello che stavo dicendo prima cioè studiare praticamente la predisposizione dell'utente del mercato è proprio questo l'effetto della carta di credito che tu dicevi prima portare gli utenti a mettere la carta di credito è un passaggio secondo me fondamentale prima dell'iTunes fondamentalmente le persone avevano paradossalmente la preoccupazione a mettere la carta di credito ma me la rubano ma non so dove la metto ma non so perché la devo mettere in internet non la uso per comprare i libri non la uso per comprare la musica con l'iPhone le persone hanno messo la carta di credito dentro al dispositivo da lì secondo me cambia un paradigma cioè io sto usando la mia carta di credito tra l'altro depositata da un'altra parte per comprare in internet secondo me questo è un cambio il messaggio è che se io non ho la carta di credito non esisto il messaggio è quello è come dire io faccio un asilo nido per i bambini però ragazzi insomma si viene solo in Mercedes perché se il bambino mi viene con un non posso pigliarlo perché devo mettere la carta di credito cioè no ma voi quando leggete il comune di Reggio Emilia fa un dispositivo per l'iPad oppure la RAI fa un dispositivo insomma per l'iPad e tutti dicono bene bravo ma come bene bravo un accidente tu fai un dispositivo trasversale per tutte le piattaforme se sei capace ma non lavori per chi ha la carta di credito consentite ho sbagliato bene perché io avevo capito insomma che la rete era un'altra roba era condivisione accesso e scambio e non era cioè patrimonialità possesso e gerarchia perché se no appunto ho sbagliato per 15 anni no no ma sono sono assolutamente d'accordo su questo passaggio ed è a mio avviso corretto così non a caso cioè sviluppo e spingo anche tecnologie open nel momento in cui posso ma il passaggio è un altro qui stiamo parlando se lui è stato in grado di generare un cambio di paradigma o meno su determinati tipi di come posso dire su delle tecnologie sull'utilizzo praticamente delle tecnologie cioè ripeto io sono al di là dell'essere più o meno un apple boy o fan ma ho lì dentro veramente dispositivi di altre tecnologie quindi non è non è un legame solo a un brand però secondo me la genialità che va riconosciuta è appunto nel saper scegliere il momento giusto per portare un prodotto di altissimo design di altissima qualità da molti punti di vista nel momento giusto tanto da cambiare e modificare l'approccio degli utenti un utilizzo specifico degli utenti ripeto per me la carta di credito online è cambiata secondo me su questo tipo di passaggio l'ultima cosa poi giuro adesso il colpaccio insomma il colpo basso non lo volevo tirare perché no no ma non è un colpo basso no perché c'è un nome che svela tutto che si chiama Foxcom e adesso se la dobbiamo dire tutta Foxcom per molti di voi che è quell'inferno messo sulla terra che è una fabbrica con 79 mila 79 mila operai in Cina che ha il più alto indice di suicidio a metro quadrato su cui si è costruito quei 600 miliardi di capitalizzazione insomma ragazzi non è possibile che l'uno sia indipendente dall'altro io siccome penso che uno degli elementi vincenti di Google sia don't be devil giusto o sbagliato andiamo a vedere se li becchiamo con la mano nella marmellata però la rete non può riprodurre Manchester perché l'abbiamo già visto un secolo e mezzo fa che cos'era il capitalismo primitivo Manchester i bambini i cavalli ricordate i bambini è passato un secolo e mezzo è stato civilizzato il mondo e io mi presento sulla scena Toy Story Pixar e poi produco anzi vado io a ispezionare e impongo dei ritmi produttivi per cui questi lavorano 17 ore al giorno scusatemi bisogna anche dire una cosa però che la Foxconn non produce solo per Apple produce anche esatto in questo momento la pietra dello scandalo Apple perché controlla la maggior parte del mercato quindi ovviamente essendo leader la colpa cade sulla Apple però probabilmente questo è un minimo comunitore nel senso che coinvolge altre aziende occidentali che fanno lavorare allo stesso ritmo pagano la stessa tariffa eccetera quindi è anche una cosa da dire a discolpa tra virgolette esatto ok ok prego prego sì volevo aggiungere qualche elemento così biografico visto che no poteva essere sì poteva essere anche interessante per per spiegare quello che credo che alla fine fosse Steve Jobs tra le tante cose ma principalmente un imprenditore una persona che aveva fondato un'azienda e che mirava i profitti più alti di questa azienda come mirasse quale fosse la sua strategia è quella che tutto sommato si sta spiegando stiamo cercando di spiegare la qualità la perfezione l'abuso di una determinata produzione che peraltro è stata curata a lungo dall'attuale CEO Tim Cook cioè l'esternalizzazione in Cina delle fabbriche è avvenuta per mano di questo ingegnere dell'Alabama che in fatto di logistica dicono non avere secondi io però tornerei un po' sulla figura perché è vero che Steve Jobs inevitabilmente fa parte un po' della mistica del mito eccetera eccetera verso il quale quando se ne parla inevitabilmente si cade o nella santificazione o nella demonizzazione o è sempre molto difficile restituire l'immagine complessa di un uomo che raramente in quel settore ha iniziato all'inizio degli anni 70 e ha finito l'anno scorso sostanzialmente quindi uno dei pochi esemplari uno dei pochi testimoni di lunga carriera di questo settore in cui lui all'inizio era il più giovane fra i più vecchi e alla fine era il più vecchio fra i più giovani però detto questo vi cito due o tre momenti biografici che potrebbero essere interessanti per sostenere quello che stiamo discutendo allora il primo sul design è curioso che il design della mela così famoso così atavico così azzeccato per molti aspetti fosse un design nato da un vecchio logo di Wayne che era uno dei tre tre fondatori della Apple un Wayne che non si conosce nessuno conosce insieme a Wozniak e Steve Jobs creano la Apple Wayne però è un amministrativo un burocratico un ragioniere e poco dopo gli si comprano le azioni per poco perché lo stesso Wayne non se la sente di andare avanti in sostanza nel rischio imprenditoriale ed è Wayne che crea il primo logo della Apple che forse l'avete visto forse no in estrema sintesi è un Newton stilizzato stile anglosassone sotto un melo con una mela quindi c'era la mela ma era all'interno di una scena che era quella classica di Newton con la mela che cade in testa la gravità eccetera nel 77 poi successivamente grazie allo studio di comunicazione di McKinney che è uno degli elementi fondamentali che porta la Apple a quotarsi in borsa a diventare quella che è crea la mela la mela che noi tutti conosciamo col morso e in quel caso Jobs vuole assolutamente questi colori che sono poi anche lì scelti in modo tale da nutrire qualche leggenda di troppo probabilmente bandiera della pace bandiera gay i colori invertiti per un motivo particolare insomma fondamentalmente quello è il primo logo per questo logo azzeccatissimo straordinario tutto quel che volete in sostanza non è che spenda tantissimo faccio un salto lungo e dico che nell'86 quando Steve Jobs esce o viene fatto uscire dall'Apple e fonda questa nuova azienda che è la Next parentesi non è vero che la tempistica dei prodotti di Steve Jobs sia sempre stata azzeccata perché il Next non è un esempio però quando fonda la Next chiede a uno dei designer più illustri che ci sono sulla scena Paul Rand che aveva fatto il logo di IBM la dorsale della sistema informatico americano e mondiale cioè IBM glielo chiede gli dà centomila dollari per fare questo logo e sinceramente Next sparisce dopo qualche anno e non avrà mai quel grande successo commerciale avrà un successo e un significato profondo ma non ha mai avuto un successo commerciale anzi sempre stata lì sul baratro pronta a fallire da un momento all'altro malgrado i grossi investimenti di forse non lo sapevate Ross Perot è uno dei grandi investitori di Next che è uno dei candidati alla Casa Bianca che è il terzo incomodo tra Clinton e Bush se non erro e fa vincere Clinton questo è un esempio di come il grande designer con il grande imprenditore con i grandi soldoni verdi centomila dollari nell'86 non raggiungono il risultato di un terzo azionista un po' sfortunato un po' ubriachello a cui vengono rubate le cose e all'agenzia di comunicazione nel 77 quindi ci deve essere qualcosa ci deve essere qualche altra alchimia oltre all'investimento di centomila dollari sul grande designer un altro elemento che volevo offrire come come biografia si parlava prima di Beatles e Rolling Stones forse è il caso di sottolineare che se avesse potuto scegliere probabilmente io direi da biografo non autorizzato Dylan perché insomma è ormai conosciuto dai sassi di Cupertino solo da lì che la sua passione per Bob Dylan fu tale che si narra addirittura una storia d'amore molto veloce con John Bytes da parte di Steve Jobs più o meno ma non sono sempre una storia d'amore e si dice che questa storia d'amore fosse fondamentalmente perché John Bytes era stata finanziata di Bob Dylan e non tanto per John Bytes però questo è un altro le donne non c'è mai andato leggero no no l'altra cosa è quella lei aveva buon gusto però bisogna dire perché ha scelto due personaggi non da poco assolutamente l'altro elemento biografico su cui si raccontano grandi storie gli stessi colleghi sottoposti di Steve Jobs sia alla Apple prima fase poi alla Next e poi alla Apple successivamente raccontano quello che viene chiamato reality field distortion cioè il campo della realtà distorta o in altri termini la capacità di Steve Jobs di convincere o sul palcoscenico o fuori in azienda con una serie di strategie dall'arroganza alla violenza all'adulazione di costringere gli altri a concepire quello che Steve Jobs sta dicendo come necessario assolutamente inderogabile e la cosa più importante del mondo cioè lui aveva probabilmente un grande carisma una grande capacità anche dialettica con la quale riusciva a convincere sia i suoi sottoposti che i suoi colleghi che ovviamente il pubblico questo è molto importante il pubblico e i clienti ecco io vi faccio un esempio invece di questo reality distortion field che utilizzò in una delle grandi occasioni della storia che viene narrata ripetuta fu l'incontro uno dei tanti incontri che fece Steve Jobs a Boston credo fosse Macworld di Boston in cui annunciò questa strepitosa e antipatica idiosincratica alleanza dopo essere ritornato alla Apple e aver trovato la Apple quasi alla bancarotta si lancia in un'alleanza con il grande nemico Microsoft Big Gates sgancia proprio un assegno credo forse 150 mila dollari esatto adesso non ricordo scusate la cifra fate conto che io non l'abbia detto in sostanza cosa succede Steve Jobs presenta davanti a fanatici della Apple ingegneri della Apple appassionati della Apple il suo grande ritorno il suo grande rientro il condottiero che deve riportare fuori dalla trincea la Apple che sta di lì a 90 giorni rischia la bancarotta e addirittura sul grande schermo compare Bill Gates il grande nemico in quell'occasione al di là di tutta questa bella scena che ha un po' di succulenti dettagli giornalistici che ovviamente in quanto giornalisti noi stiamo sempre a guardare però nella biografia ho cercato anche di analizzare un po' il suo discorso perché sono molto interessanti i suoi discorsi i suoi Steve Note e lì dice una cosa dice noi dobbiamo smetterla di pensare che Apple per vincere deve pensare che Microsoft debba perdere in sostanza dobbiamo allearci perché dice lui perché quello che decidiamo noi e Microsoft essendo noi il 99% del mercato diventerà standard per cui se noi Apple e Microsoft ci alleiamo insieme quello che decidiamo sarà la minestra che dovranno mangiare dovranno assorbirsi tutti coloro che vogliono comprare un computer un portatile o quant'altro ora al di là di questo al di là dell'aspetto ideologico dico quello che sta dietro a questa frase è che è vero che al tempo Apple e Microsoft rappresentavano lo standard di fatto del mercato ma quello che non disse Steve Jobs in quell'occasione è che Apple rappresentava il 3% del mercato e Microsoft il 97% del mercato quindi lui è riuscito a far bere a giornalisti pubblica opinione clienti mercato riposizionando con le sue capacità il suo carisma riposizionando Apple nel gota della Silicon Valley quando in realtà in quel momento storico esatto la Apple era un'azienda che stava perdendo che aveva cambiato 5 amministratori delegati uno dietro l'altro i cui prodotti non andavano che ateva il 3% del mercato e sembrava che stesse parlando il CEO di davvero un'azienda che era al top del mercato ecco questo è uno degli elementi che andare a grattare sui discorsi che Steve Jobs faceva davanti a migliaia di persone e oggi milioni di persone attraverso la rete è interessante è forse visto che siamo a Pisa città accademica eccetera è forse un genere letterario che avrebbe avrebbe un senso essere indagato cioè proprio analizzato linguisticamente e contestualizzandolo in un momento storico in cui lo diceva ultima cosa un altro elemento su cui si è parlato non tantissimo però che trovo sempre molto interessante è quello che diceva Michele prima in sostanza Steve Jobs incontra in un parco un laboratorio in California gli viene mostrato un prototipo un computer su cui sono presenti le icone e il mouse che va a cliccare su queste icone questo laboratorio informatico si chiama Xerox Park e fa parte dell'azienda Xerox e finanziato da tante altre aziende e reclama il diritto o in qualche modo ottiene il diritto di poter utilizzare quel design design che diventerà di fatto lo standard della cosiddetta GUI cioè l'interfaccia grafica per l'utente lui ci arrivò comunque per primo da un punto di vista commerciale fu il primo a commercializzare quell'interfaccia grafica e in questo ripeto fu un grande imprenditore cioè rimane un grande imprenditore questo secondo me non lo si può togliere tra il mistico e il pioniere eccetera comunque rimane un grande imprenditore e fu il primo a commercializzarlo gli andò male in quel momento perché poi gli eventi si susseguirono lui lasciò la Apple Windows e Bill Gates e Berroio Sopravvento eccetera eccetera ma quello che è fondamentale trattenere secondo me è che lui fu il primo ma non riuscì a fare un'operazione fondamentale che gli riuscì vent'anni dopo con l'iPad e l'iPhone cioè rendere il suo prodotto lo standard di riferimento commerciale di fatto se ci pensate noi quando parliamo di computer spesso almeno qualche anno fa adesso un po' meno dicevamo il PC il PC per dire il computer ma spesso si confondeva con Windows PC in realtà PC è personal computer quindi vale per qualsiasi tipo di marca ma quello che era riuscito a fare Bill Gates anche se in ritardo rispetto a Steve Jobs era marchiare il termine PC con Windows cioè associare praticamente il termine generico di un prodotto col termine specifico del prodotto che produceva Bill Gates questa operazione questo come dire questo allineamento associazione questa fusione è una roba fondamentale da un punto di vista commerciale che riuscì a Bill Gates cosa che è riuscita appunto vent'anni dopo a Steve Jobs con l'iPad che oggi è in un qualche modo il punto di riferimento per dire tablet un po' prima con l'iPod in senso che l'iPod è diventato il lettore musicale generale Walkman Sony io mi ricollego al tuo intervento perché hai parlato giustamente del campo di distorsione della realtà nella biografia ufficiale parlerò almeno 50 volte di questo termine tranne due infatti voglio renderne conto a Mirko e vedere cosa ne pensa per due volte sostituisce il termine campo di distorsione della realtà con seduzione e per due volte a parlare di seduzione è Bill Gates cioè Bill Gates diceva lui era un seduttore seduttore è un termine ambiguo perché positivo significa essere in qualche modo corteggiati però spesso passa appunto per affabulatore per due volte in tutta la biografia parla di parla di seduzione ed è Steve Jobs ed è Bill Gates a dire che Steve Jobs è un seduttore guarda abbiamo detto la stessa parola nello stesso momento abbiamo detto affabulatore praticamente in coro in questo paese ce n'è stato un altro che si chiama così manteniamoci alla laggia sta simpatico allora sì assolutamente io credo che siano sostanzialmente intercambiabili perché il seduttore di fatto usa un campo di distorsione della realtà che va ad agire su a determinate leve assolutamente molto molto profonde ma sempre su Isaacson ci sono dei dettagli che lasciano interdetti e se soltanto un grande seduttore potrebbe riuscire ad ottenere certi risultati a me ad esempio ha colpito molto non mi ricordo se l'ho letto qua o da qualche altra parte il fatto forse ci puoi aiutare su questo quando gli è stato portato l'ultimo prototipo del primo iphone si narra che sia stato rimandato indietro più volte per il click dell'inserimento delle cuffie cioè quando si inseriva lo spinotto il jack delle cuffie il click che veniva fuori non era soddisfacente secondo Steve Jobs esatto qualsiasi altro tipo di imprenditore o il capo qualsiasi azienda sarebbe stata mandata a quel paese diverse volte l'industria di automobili adesso fa delle analisi sul rumore della portiera che si chiude perché sta diventando fondamentale perché è un segno di solidità esatto ma questo lo capisco mentre capisco meno un dettaglio che in maniera superficiale avrei giudicato sicuramente appunto un dettaglio il click delle cuffie ed invece era assolutamente fondamentale per Steve Jobs tanto da ritardare la produzione e quindi perdere dei soldi per portare a fine tuning questo particolare e questo è un doppio esempio quindi del grande seduttore anche verso i suoi uomini interni e soprattutto del maniaco come dice qualcuno del pazzo maniaco verso alcuni dettagli che per altri potevano essere insignificanti per quanto riguarda la comprensione del mercato è venuto fuori più volte sì c'è una coincidenza di time to market ci sono alcune cose anche sbagliate ovviamente non è un profeta del mercato sicuramente Steve Jobs devo dire però che ha capito probabilmente prima di altri che internet stava cambiando il mercato e sono due che hanno capito come il fenomeno della coda lunga grazie alla rete stava sgretolando appunto il mercato di massa uno è Amazon e l'altro è Apple che parallelamente hanno iniziato a andare a occupare le nicchie della Google prima di tutti in realtà ma il mercato di Google era così liquido da essere praticamente invisibile quando tu andiamo su Amazon quando tu parli di libri e fai un'operazione e li porti dallo scaffale alla rete e vai a rendere evidente il fenomeno appunto della coda lunga e lui ha capito esattamente questo sulla sulla musica e poi su tutto il resto dei media che ha portato sui suoi device e il grande mentre il cambio di paradigma vero quello che probabilmente oggi non notiamo più è che l'uso dell'interfaccia dei suoi dispositivi ormai è diventato lo standard di fatto per qualsiasi dispositivo touch se voi provate a prendere qualsiasi oggetto che ha uno schermo proverete a ingrandire l'immagine facendo pinch con le dita a fare lo slide per cambiare la schermata ci sono dei video esilaranti sulla bambina sulla rivista oppure il bambino nel supermercato che cerca di cambiare schermate su dei semplici schermi è vero ma davvero ci sono cose straordinarie Steve Jobs ma questa è una delle cose che più mi sorprende girare le pagine è una roba che abbiamo fatto per secoli adesso pensiamo che Steve Jobs abbia fatto questo movimento qui no noi abbiamo sempre girato le pagine ma sì ok però non esageriamo ma prima prima del la vision però aspetta è vero questo sono d'accordo ma è come quando tu vedi un'opera d'arte contemporanea e tu dici cazzo la potevo fare anch'io cioè conta chi la pensa per primo ecco solo che non l'ho portata qui l'ho lasciata a casa ma addirittura non solo chi la fa per prima chi la commercializza meglio esatto perché gli ha importe ma erano anni scusate erano anni che c'erano gli mp3 cioè io non dico io perché non si può quindi non lo dico però qualcuno comprava mp3 reader in Corea e scaricava dalla rete anche tre o quattro anni prima della ipod cioè addirittura prima che se già tornasse in Apple infatti questa è l'ennesima dimostrazione della scelta del tempo cioè lui ha creato un business su un'esigenza su un modello che stava prendendo piede quindi la scelta del tempo il punto adesso io vi faccio questa domanda lui siamo 2004 2005 nel momento in cui c'è la grande ondata Napster c'è la grande c'è il gusto di prendersi la musica gratis proprio era diciamo un'ebrezza lui fa un'operazione per cui riporta lo spiega i pirati in marineria nella marina in nome della seduzione di un oggetto perché l'operazione è se volete l'iPhone l'iPod dovete rifornirvi da iTunes solo rifornendovi da iTunes potete avere l'iPod tutto questo su che si basa? si basa ovviamente anche quella sulla cosa più antica del mondo la seconda cosa più antica del mondo che è ovviamente il gusto di possedere un oggetto ovviamente lui recupera dalla vecchia economia materiale e ripropone nella nuova e fa un'operazione in questo secondo me hai azzeccato perché lui fa anche un dato anagrafico che è su se stesso dice i pirati degli anni 80 adesso quanti anni hanno? hanno 40 anni infatti lui non fa l'operazione sui ventenni i primi target beta testing dei target arrivano 35 45 anni quella è la forchetta su cui lui lavora allora il punto insomma qual è? lui fa un'operazione che io però sono nessuno per cui ritengo tra virgolette regressiva che a lui rende l'ira di Dio che riporta indietro le lancette di una cultura che va quella della condivisione ridandogli nome cognome e prezzo e dice tu per 1,99 ti scarichi la musica e fai un figurone sentendotela sull'ipod ok stiamo parlando di un imprenditore quindi uno che ha determinate scelte no ma lo dico perché no perfetto ma infatti c'è un secondo lui non solo ha portato le lancette indietro però ha aggiunto qualità anche nel porno nel momento in cui è nato YouPorn l'industria del porno fondamentalmente per continuare a far business che cosa ha fatto? ha portato i video ad alta definizione e la promozione dei video ad alta definizione vicino a quelli a bassa definizione caricati su YouPorn perché doveva continuare a fare business cioè il concetto è lo stesso lui ha detto c'è un'esigenza ci sono gli MP certo assolutamente alzato la sticella c'è un'esigenza c'è quello che ha bisogno di continuare a ascoltare musica magari con una qualità un po' più alta perché c'è un altro fattore internet il mobile la tecnologia sta comprimendo il tempo delle persone se io per poter avere la musica l'ultimo pezzo di Liga Bue più che di un altro cantante devo perdere due ore tra connettermi andare su un Napster cercarlo un torrent non funziona e via dicendo quando posso spendere 0,79 e comprarlo e scaricarlo subito ascoltarlo subito a mio avviso lui ha sfruttato giustamente quello che è un cambiamento sociale che è l'accorciamento del tempo delle persone io compro la musica direttamente dovunque sto con 0,79 centesimi perché perché fondamentalmente non ho il tempo di tornare a casa aprire un Napster o quel che sia mettermi a scaricarla quindi tra l'altro di conseguenza lui non ha fatto nulla all'ora di regressivo fondamentalmente ha dato uno strumento funzionante per farlo quindi voglio dire non stare nemmeno a parlare di Napster se il problema è l'illegalità se togliamo l'illegalità parliamo della qualità dipende da quale punto viene visto apposta ti dico secondo me la genialità poi mi accendo perché ne sono particolarmente diciamo studioso delle alcune dinamiche di questo tipo però cioè secondo me appunto la genialità proprio perché stiamo parlando di un imprenditore che su quello ci sta costruendo e ci ha costruito un impero fondamentalmente è in questo nello studiare il tempo giusto di modificare determinate dinamiche vedi i video vedi le applicazioni voglio dire oggi si parla di ecosistema delle applicazioni chi l'ha inventato l'ecosistema delle applicazioni io stavo per dire esattamente quello ha inventato l'ecosistema delle applicazioni lui ha detto ci sono milioni di sviluppatori nel mondo sì io gli metto a disposizione la possibilità di guadagnare di generare revenue per loro di generare revenue per me voglio dire questi sono cambi di paradigma è inevitabile ma ovviamente siccome non è San Francesco ci ha guadagnato tra l'altro anche qua qui c'è sull'ecosistema un dettaglio anche io volevo dire questo oggi è abbastanza normale quando si pensa a qualsiasi dispositivo pensare all'ecosistema delle applicazioni perché ovviamente è più importante il contenuto della scatola fisica del contenitore che viene giustamente percepito in un certo è importante più quello che tu riesci a fare con questo oggetto all'inizio sì però è più importante anche il posizionamento della prima comunicazione c'è un'app per qualsiasi cosa piuttosto che l'oggetto fisico tanto che non ti dice neanche si basa più sullo status sul design e non sulla caratteristica tecnologica il concetto di ecosistema delle applicazioni prima era assolutamente inesistente e su questo è uno strumento abilitante anche di business cioè prima chiunque voleva fare un'applicazione aveva bisogno di intanto essere un programmatore e avere delle competenze importanti dal punto di vista tecnologico lui ha fatto degli incontri su cui lui diciamo Steve Jobs ovviamente in maniera allargata ha fatto un SDK quello che tecnicamente è un SDK quindi una serie di istruzioni per cui chiunque pagando può diventare uno sviluppatore pubblicare le proprie applicazioni anche se tu le metti gratuite paghi lo stesso i famosi 99 dollari annui per poter pubblicare le tue applicazioni sull'app store ma pensate a quanti a che generatore di modelli di business è questo cioè da qui in avanti il mondo delle start up ne parlavamo prima tutto il giorno oggi che parliamo di start up è cambiato ed è cambiato completamente insomma non soltanto grazie a questo ma sono nate start up su proprio grazie a questo grande abilitatore che è l'app store dove chiunque può pubblicare le sue applicazioni e fare revenue che tra l'altro lui inizialmente non voleva cioè lui inizialmente non era d'accordo è una proposta che arrivava dall'interno dell'app gli dicevano creiamo un sistema del genere gli sviluppatori saranno contentissimi di poter produrre e noi ci guadagniamo lui non era d'accordo perché significava andare a intaccare l'esperienza dell'utente quindi lui perdeva il controllo del suo prodotto e quindi è stato d'accordo solo nel momento in cui ha fissato dei paletti molto precisi allo sviluppo e da lì è nato poi l'app store infatti anche qua si vede la differenza tra il mondo Apple e il mondo Android cioè chiunque ha un minimo di esperienza se fate un'applicazione Fabio su questo è il suo lavoro non è non va esattamente liscia cioè voi fate l'applicazione la sottoponete al processo di certificazione della Apple anche qui si vede il mondo chiuso non è tutto il mondo chiuso della Apple poi magari viene rifiutata perché replica alcune funzioni che sono già presenti nell'iPhone e questo da policy non possono essere replicate cioè non è esatto proviamo adesso a giocarci un po' tutti la faccia perché il punto vero che da oggi si sta giocando è che cosa accadrà perché ora la partita e tutto quello che abbiamo raccontato finora è come dire la spinta inerziale degli effetti che il biografo ci ha ricostruito prima però adesso insomma che succede io insomma vi segnalo un dato su cui poi voglio se stiamo di qua o stiamo di là nell'ultima versione l'ultima edizione a Davos che è questo incontro della creme della creme della creme dell'economia mondiale il tema centrale è stato qual è il modello di business che regge nella crisi e guarda caso i due i due parametri di riferimento yin e yang perché si sono usati ovviamente la simbologia che erano tutti che giocavano a dadini lì era tutto prese insomma dall'economia digitale e i due parametri erano google e apple apple è un sistema hardware driving con tutto il corredo sistema chiuso possesso scambio eccetera eccetera google era diciamo la metafora del software driving sistema aperto smaterializzazione riformattazione eccetera eccetera allora e lì insomma se le sono date insomma di santa ragione alla fine poi insomma è inutile dire chi ha vinto lì tanto allora il punto è visto insomma che voi avete delle aziende con cui giocate io vendo chiacchiere per cui me la cavo bene ma che cosa può succedere insomma qual è la dinamica anche calcolando che questa crisi finanziaria non è una variabile irrilevante rispetto a questo punto perché sta cambiando radicalmente il livello di consumo e di uso insomma di questi mezzi per cui apple continuerà una navigazione imperiale basata sulla strategia di imporre il proprio brand su ogni tipologia di prodotto e da quel prodotto ricavare una catena di valori di funzioni le app eccetera eccetera o invece l'ondata dico android per simboleggiare gli altri young insomma porterà anche apple ad aprire i cancelli perché questa diventa un elemento dirimente rispetto alle questioni nostre insomma pensiamo al di là del commercio pensiamo alla parte della formazione l'educazione dei nostri figli insomma come studieranno in un universo legato a ipad driving o in un universo in cui non sono le app ma sono gli streaming di rete a guidare ecco insomma questo insomma io credo che sia la vera eredità che ci lascia e su cui insomma si deve discutere perché poi il resto sono monumenti alla memoria che chi ha voglia rigge su questo chiamerei posso aggiungere però la domanda lascio sì sì no ma è proprio un'aggiunta di una fotografia cioè la sua domanda cioè apple in futuro come la fotografia che vi offro purtroppo ve la spiego brevemente è università california università credo berkeley quindi siamo in california in pieno campus super digitale da dove vengono tutti i nuovi geni del mondo digitale aula 200-300 studenti immaginatevi voi siete i professori quindi state vedendo l'aula 200-300 persone tutte con un portatile tutte con macintosh quindi bollino inconfondibile della mela poi c'è uno con un black notice e uno con un asus e una freccia perché è una fotografia una freccia che dice asus e dall'altra parte block notice e sotto c'è scritto think different ma guarda io ti faccio un esempio Mattia Lalli età 20 mesi mio figlio usa l'ipad e non riesce a usare il tablet android l'ipad a 20 mesi lo accende sa qual è l'unico tasto e non i 18 tasti no ma li usa cioè io a casa li ho tutti e due perché sviluppando veramente compro di tutto di più però di fronte all'ipad lui riesce con un tasto solo a sbloccarlo a fare un unlock selezionare la cartellina dei cartelli animati e usarlo di fronte al tablet semplificato in tutto e per tutto non sa qual è il tasto per aprirlo semplicemente non sa sbloccarlo non sa qual è la cartella secondo me la cosa che è evidente è la semplificazione del prodotto poi ne schiamo un'altra discussione che potrebbe aprire un altro mondo e che questo tipo di dispositivi stanno generando solo utenti consumer non più producer semplicemente perché però questa è un altro no 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 non è assolutamente un dettaglio ma è un altro diciamo discussione da altro ambito però la semplificazione che hanno dato porta gli utenti ad usarli malgrado costino un po' di più poi posso essere d'accordo che non è bello il panorama cioè non è possibile pensare che i bambini delle scuole abbiano l'iPad e sarebbe più giusto avere dei tablet di più bassa fascia di prezzo con software open che gli permettano di poterlo usare in sostituzione dei libri con software e via dicendo sono assolutamente d'accordo che debba avvenire questo però bisogna dar atto che se oggi stiamo pensando ai tablet dentro le scuole e c'è stata un'accelerazione di un certo tipo è grazie a secondo me a un oggetto di questo tipo che è arrivato sul mercato con una tempestività tale con una comunicazione così forte che ha cambiato la visione di un determinato tipo di possibilità future di mercato questo è Gloria Dotta a 13 mesi ha scelto l'iPhone della mamma perché con un pulsantino riesce a accenderlo e a 13 mesi fa scorrere e riesce a attivarlo il Windows Phone non riesce a farlo quindi l'ha rifiutato non ci gioca perché non riesce a accenderlo mio figlio mi ha crepato giuro rotto il romano i pixel del Bravia a questa altezza perché va lì pensando di poter schiacciare i tasti e giuro non è una scena da YouTube è vero uno lecca lecca glielo darete no 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 infatti c'è Elia e Chir non toccano l'iPhone no capisco no 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 ma per carità ma io non sto dicendo che sia un bene o un male però no no ma infatti non sto dicendo se sia corretto il mio figlio ma io non prendo il mio figlio gli dico tieni usa l'iPad però nemmeno gli dico no non te lo do o lo nascondo semplicemente perché se vede che lo sto usando ce lo affianco e vede che lo uso e lui con la manina così appoggia gira cioè non è che posso toglierlo voglio dire la società è fatta quella altrimenti rischiamo di produrre dei non dei nativi digitali ma dei no se no è il contrario sto dicendo cioè dei sono dei deficienti digitali sì praticamente sì non volevo dire quello però cioè degli emigrati digitali c'è qualcuno che praticamente all'età di 16 anni in mezzo a una classe di persone che usano strumenti non sa usarli secondo me è giusto che secondo me rispondo alle due domande in una battuta è di fatto un nuovo linguaggio è di fatto un nuovo linguaggio e c'è in questo momento il driver del mercato il driver per portarlo sul mercato e quindi nella società di questo nuovo linguaggio è Apple ma è una fase di passaggio non credo che Apple cambierà il suo modello di business in questo momento ci sta ancora rendendo tanto e non credo che sia neanche in grado di immaginare magari ci sorprenderà a tutti ma non è in questo momento non credo sia in grado di immaginare un modello così rivoluzionario non certo non può fare un modello alla Google non sono nati per fare questo credo però che arriverà a un certo punto qualcuno che partendo da questo linguaggio riuscirà a replicare qualcosa di più efficiente sarà la killer application in senso sia hardware che software che potrà magari essere open aperta e riuscire ad entrare nelle scuole negli asili portando la potenza di questo nuovo linguaggio e la semplicità e anche la sostenibilità legata al mondo open è sempre successo così nella storia dell'innovazione per salti se mi consentite vorrei provare a portare questa discussione a un livello ulteriore cioè abbiamo parlato di Steve Jobs secondo me abbiamo fatto una bella analisi completa a 360 gradi visto da vari lati però come possiamo far tesoro di lui cioè Fabio che stamattina hai seguito le start up e da tempo con gli indigeni digitali hai creato un sistema per loro per poter parlare comunicare far community nel momento in cui io parole di Steve Jobs non sopporto che si autodefiniscono imprenditori persone che in realtà cercano solo di lanciare una start up per poi venderla o quotarla e gente che non vuole sobbarcarsi l'onere di creare una vera azienda che è l'operazione più difficile nel mondo del business cioè lui era fiero di essere un imprenditore ed era veramente fiero di poter creare qualcosa nel momento in cui vedi le start up italiane se ne sta parlando sempre di più e se ne parlerà molto di più tu vedi degli imprenditori o vedi soltanto dei giovani che hanno una buona idea e provano a farci due lire io ti guardo un po' di più mentre dai la ricorda ti stanno ascoltando no allora premesso che l'ho detto questa mattina secondo me il termine start up è stra abusato a 360 gradi viene chiamato start up qualsiasi cosa da quattro righe di codice messe in croce all'apertura praticamente di un blog più che altro quindi c'è un problema di abuso del termine questo è il primo problema il secondo problema ti guardo negli occhi così ti do la risposta il secondo problema è che in questo momento allora da una parte ben venga un po' di entusiasmo perché siamo vittime in qualche modo di un pessimismo cosmico che ci è stato radicato nel DNA da quando siamo nati nelle ultime generazioni e forse l'entusiasmo che in qualche modo sta portando internet alcuni tipi di innovazione forse il sogno zugenberghiano praticamente di poter fare il prossimo facebook o quant'altro forse è una buona iniezione d'ottimismo e di voglia di fare e cambiare sicuramente c'è bisogno di stare attenti a creare tanti piccoli mostri che invece si stanno catabultando dall'ultimo piano di un grattacielo senza avere strumenti e metodologie per fare impresa perché startup a tutti effetti non è fare un qualcosa di strano o di diverso ma è semplicemente una fase iniziale di un processo per creare un'impresa che scala velocemente e che cresce in un certo modo quindi dobbiamo stare attenti molto attenti io sono uno di quelli che in qualche modo dice attenzione e non oleo io io andiamoci a buttare tutti insieme nel ponte di Brooklyn nel creare appunto mostri di non imprenditori che si pensano imprenditori questo è assolutamente d'accordo bisogna però lavorare su tanti fattori ora ribadisco lo sottolineo perché di questo invece ne sono convinto se l'iniezione di ottimismo che in qualche modo sta cominciando a circolare e io sono uno di quelli che dice dai continuamente incentivare al cambiamento comunque a fare qualcosa secondo me va bene perché distoglie da quella coltre di fumo che abbiamo dentro la testa del tutto va male tutto è una schifo l'Italia è una merda non si può fare niente e via dicendo questo è non so se e mi ricollego proprio a quello che stavi dicendo nel senso che prima Michele giustamente dicendo caspita ma il primo pc c'eravamo anche noi dove è che ci siamo persi cioè lo stesso Jobs diceva che lui si era sentito parte di un qualcosa nel momento in cui viveva nella Silicon Valley lui si sentiva parte di un territorio di un qualcosa che lo coinvolgeva cioè com'è com'è che qua siamo a Pisa dove ti giri vedi Galilei vedi Fibonacci quella è una storia che andrebbe andrebbe ricordata perché se noi pensiamo che in pochi mesi di un anno quell'anno il 1962 guardate 50 anni fa si concentrano tre eventi muore Mattei e sappiamo come la divisione elettronica dell'Olivetti si impone militarmente la vendita alla Geneva Electric il CNEN che rendeva questo paese il primo in Europa nella produzione tecnologica di centrali di energia nucleare entra in una bagarre di polemiche e viene smontato pezzo a pezzo 1962 l'Italia era la terza potenza spaziale del mondo voi siete molto giovani ma io ricordo un nome Broglio l'ingegner Broglio era chi mandò nell'aprile del 62 dopo Unione Sovietica e Stati Uniti un razzo nello spazio cioè il potenziale tecnologico di questo paese nel 1962 dopo quattro anni di incremento del prodotto interno lordo del 7% l'anno primo nel mondo non ci fu nessuno che riuscì in occidente a fare una performance del genere era impressionante perché se voi andate a vedere i dati sociologici di quell'Italia ovviamente fatte le debite insomma proporzioni sono non dissimili dalla California di fine anni 70 piccolissima e media aziende grande artigianato grandissimi centri tecnologici e prestigiose università questo era l'Italia del 62 e arriviamo a creare con la programma 101 insomma c'è una foto in rete andatevela a vedere su youtube è impressionante è la situation room della NASA quando parte il primo Mercury americano e si vedono gli operatori che lavorano non con l'IBM ma con programma 101 dell'Olivetti per un motivo banalissimo che siccome era l'unico che stava in una scatola da scarpe poteva essere messo sulla navicella mica per altro perché quelli insomma dell'Olivetti mettevano i computer in una stanza come questa e forse neanche ci andava tutto per cui la partita è che c'era una base sociale c'era un primato tecnologico c'era ovviamente una genialità antropologica il gruppo Olivetti c'era il famoso professor Chu un italo cinese che era uno da tenere proprio nella formalina voi immaginate nel 61 uno italo cinese che doveva essere proprio un persona marziano eccetera quella partita venne stroncata militarmente e quel paese non si è più ripreso da quella batosta cioè da quella batosta questo paese esce gregario subalterno e legato alla spesa pubblica non più all'innovazione questa è una storia che andrebbe andrebbe ripresa quella cosa quella talpa che sparisce nel 62 a Borgomanero dove c'era l'ultimo laboratorio di Programma 101 riemerge poi a metà degli anni 70 e riemerge con la faccia appunto prima di Bill Gates e poi di Steve Jobs io chiudo con una considerazione mi gioco come al solito insomma essendo nessuno sparo una fanfare un'altra io credo così insomma tanto fra qualche anno ci vediamo tanto sempre qui giriamo che noi siamo io penso alla fine di quella stagione legata all'ingegnerizzazione del singolo prodotto penso che l'elemento trainante sia la condivisione della potenza di calcolo penso che il patrimonio su cui si giocherà anche in borsa la partita sia i server di potenza di calcolo e di questo momento nel mondo ce n'è uno solo che ha il triplo della potenza di calcolo di tutte le altre aziende e si chiamano due ragazzetti Larry Page e Sergey Brin che hanno una potenza di calcolo che è tre volte quella del pentagono tre volte quella del pentagono ecco io credo che se la rete mi ha raccontato una storia vera quella è la tendenza all'interno di nicchie nicchiette prodotto bello il bottone eccetera tutte cose vere ma la progettazione di un'intelligenza l'implementazione di intelligenza artificiale in device mobili questa è la partita che stiamo giocando è roba legata a una massa a una potenza di progettazione che sta al di fuori della genialità della singola persona questo è il cambio insomma di paradigma e in questa storia ovviamente la genialità di Steve Jobs è di essersene andato un minuto prima che qualcuno insomma l'abbia scoperto e se n'è andato come tutti i grandi attori con un grande passo di uscita dal palcoscenico io posso dire una cosa in chiusura invece io cerco di vedere leggermente invece diverso in avanti secondo me il problema innanzitutto per la mole di produzione di dati che oggi vengono fatti dagli utenti non è tanto la capacità di calcolo quanto di storage se pensiamo solo a Instagram che è un social network di fotografie comprato da Facebook per 1 billion ha nel giro di un anno e mezzo creato 5 bilioni di fotografie caricate e cresce a dei volumi mostruosi quindi il problema è secondo me a mio avviso molto di più lo storage dove andremo a infilare tutte le informazioni che produciamo ogni giorno diversamente non penso invece che il concetto di calcolo almeno per come vedo io il futuro della tecnologia sia un problema perché nel momento in cui all'aumentare della possibilità di essere iperconnessi la capacità di calcolo verrà fortemente distribuita su ogni singolo device che sta diventando molto più potente quindi ognuno sarà un pezzo della capacità di calcolo di tutto quello che c'è bisogno non funziona in quella logica non può funzionare in quella logica stiamo parlando però è diverso qui è contenuto contenuto e contenitore perché se devi collaborare nella potenza di calcolo non puoi dire intanto questo è mio no no io non ho detto collaborare io ho detto distribuire la potenza di calcolo io ho già detto lo scenario che credo che sia anche oggi in un altro panel abbiamo parlato di nuvola liquida quindi la condivisione della potenza di calcolo come di fatto si fa già in ambito accademico anzi nell'ambito della ricerca universitaria in alcuni casi tecnicamente una cosa già consolidata quindi non vedo rendere liquido anche l'hardware credo che sia una tendenza assolutamente normale cioè liquido nel senso di virtualizzato condivisibile assolutamente cloud anche dal punto di vista hardware sono d'accordo su questo ma non mi cambia la dinamica del mercato insomma quindi poi alla fine ci sarà sempre qualcuno che riesce a leggere delle dinamiche sociali e a costruirci delle dinamiche di marketing appunto che lo renderanno capace di soddisfare determinate esigenze in un certo modo scusate si vede che io mi occupo di marketing ma alla fine si tratta di capire where is the money cioè dove passa il denaro purtroppo parliamo di menta nelle nicchie non più nel potere globale si una delle grandi frasi anche giornalistiche oltre che where is the money è follow the money quello è un'altra e beh ma in alcuni casi sarebbe interessante esatto sarebbe interessante applicarle where is the money è la classica che fa la start up quando il modello di business è confuso ok ma da dove guadagni certo no io non mi fa stasera mi ha fatto particolarmente piacere come dire in qualche modo verificare che il tratto biografico e la biografia di una persona ha un certo senso ha un certo significato e porta non per quello che ho detto scusate non è che stavo autoincensendo per dire che alcuni ragionamenti che ho ascoltato alcuni da un punto di vista biografico cioè riguardati sulla linea cronologica della vita di Steve Jobs non tengono ma bisogna stare attenti e secondo me in futuro non so il futuro della Apple ma in futuro ci sarà occasione perché la storia della Apple e la storia di Steve Jobs possa essere rivista alla luce delle date precise dei progetti precisi senza l'attitudine accademica è un po' noiosa ma è importante perché prima si parlava dell'iPod e si parlava del lancio dell'iPod come tempistica eccezionale in realtà fu così non voglio negare questa asserzione assolutamente fu così però due anni prima malauguratamente il gioco fu diverso nel senso che Steve Jobs lanciò un iMovie investendo tutto sulla possibilità di manipolare il video l'immagine non capì assolutamente che la musica in quel momento lì era in realtà il driver giusto lo capì immediatamente dopo con Napster lo capì immediatamente dopo con iTunes lo cavalcò perfettamente ci arrivò arrivò alle grandi sorelle discografiche dicendo attenzione perché Napster dimostra che quindi un modo è venire con me per preservare la cosa però la biografia i tratti biografici di quello che è successo in Apple e di Steve Jobs dovrebbero in futuro secondo me non per invitare Riccardo Bagnato tutte le volte ma dovrebbero essere un po' consapevoli e tener traccia delle discussioni filosofiche aziendalistiche e teoriche del processo di Apple perché sono importanti lo vedo sempre più spesso è un po' quella lezione noiosa che fanno i professori di storia dell'arte Picasso Raffaello Michelangelo sono importanti ma altrettanto importante fissare dove si trova il quadro la statua e in che anno sono state costruite o state ideate e disegnate questo secondo me nell'opera di Steve Jobs è importante lascio il mio intervento dicendo un'unica cosa su quella che alla fine è una delle mie convinzioni più forti dopo aver scritto di Steve Jobs forse troppo e cioè che lui era davvero un grande imprenditore prima di ogni cosa inserito in una generazione che ha fatto determinate esperienze ma era soprattutto un grande imprenditore lo stesso grande imprenditore che di fronte a uno dei più grandi giornalisti tecnologici Walter Mossberg del Wall Street Journal quando ci fu la grande diatriba Flash no Flash sì dentro l'iPhone Steve Jobs un po' irritato rispose insomma noi investiamo nelle tecnologie che crediamo che abbiano un futuro secondo noi Flash non lo è e per questo non lo utilizziamo decideranno i nostri clienti se vogliono o non vogliono un iPhone senza Flash se quindi ci daranno ragione oppure no punto e a capo questa era una discussione era una risposta da imprenditore che aveva fatto l'analisi eccetera lascio solo l'ultima immagine scusate scusami l'ultima immagine è questa uno dei fondatori di Adobe quello del PDF per intenderci e quant'altro e il grande amico di Steve Jobs amava definire l'azione il carisma il desiderio la vocazione di Steve Jobs sotto questa formula lui voleva costruire uno Stradivari per la massa secondo me questa in estrema sintesi è una delle tante chiavi di letture della grande forza dell'azienda Apple della grande forza di Steve Jobs ma anche forse oggi per tornare al discorso di prima un grosso limite perché lo Stradivari ha un senso forse perché è lo Stradivari per le masse è un paradosso che ad un certo punto oggi è arrivato a un punto di non ritorno e quindi di cambiamento di paradigma non tanto della tecnologia in generale quanto di Apple a questo punto si tratta un attimo di arrivare al dunque lui nel momento in cui ha fatto il suo famoso discorso a Stanford ha parlato di unire i puntini cioè lui ha guardato indietro la sua vita ha detto adesso adesso la capisco adesso che l'ho vissuta la capisco posso unire le cose e capire perché ho fatto un certo percorso però lui ha detto anche un'altra cosa che i puntini li puoi unire soltanto dopo una volta che hai vissuto la tua vita puoi guardare al passato e capirla nel momento in cui guardi al futuro devi soltanto affidarti al destino alla fiducia in te stesso c'è una teoria adesso non so il nome esatto è una teoria della fortuna cioè non è un caso che c'è solo qualche persona fortunata è fortunato chi ci crede se tu non compri il biglietto della lotteria non vincerai quindi chi ha la convinzione di poter fare qualcosa ottimizzerà la sua vita ottimizzerà le proprie scelte per riuscire a ottenerla e Steve Jobs ha detto la stessa cosa cioè ha detto se voi credete in quello che fate ci credete a fondo e fate di tutto per riuscire a ottenerlo alla fine lo otterrete perché ottimizzerete la situazione attorno a voi per far sì che il vostro obiettivo venga raggiunto abbiamo parlato della storia dell'Italia il fatto che si è persa un po' per strada eccetera forse il discorso di Stanford era anche un po' rivolto a noi italiani in questo momento cioè crediamoci l'abbiamo fatto nel passato probabilmente riusciremo a farlo anche adesso anche perché folli e affamati ci siamo soprattutto affamati ma folli anche da sempre c'è anche un altro concetto e con questo chiudo appunto non è solo folli ma anche affamati e scarsiti spesso è vero in questo momento particolare probabilmente lo possiamo anche dire in Italia in realtà in realtà non è così in alcune nella nostra società c'è un motivo per cui ci sono anche legati al mondo delle start up ci sono in questo momento il paese dove c'è il miglior fermento legato alle start up è il Cile si sta parlando di un'esperienza impressionante in Cile legata alle start up cioè la parte più importante di stay angry stay foolish è davvero stay angry cioè in un momento di scarsità in cui ci sono persone davvero affamate in quel momento probabilmente si aguzza davvero l'ingegno si cercano delle soluzioni alternative in Italia un escamotage si riesce sempre a trovare o comunque si ha la percezione di avere un po' troppe un po' troppe reti di salvataggio e questo a volte può essere un problema ok grazie a tutti e grazie soprattutto all'Internet Festival perché ci consente di poter approfondire discorsi come questo non nel modo consueto ma approfondendoli davvero domande al pubblico non ce ne facciamo ovviamente se ci sono domande ben volentieri noi siamo qua tanto penso che il discorso su Steve Jobs sia come dicevamo prima molto molto soggettivo ognuno di noi probabilmente ha un'idea molto personale di Steve Jobs quindi forse le domande bisognerebbe farle a se stesso cosa farebbe Steve Jobs cosa penserebbe adesso probabilmente Tim Cook è il primo che pensa a queste cose esattamente una delle ultime cose che Steve Jobs ha detto ai suoi non fatevi la domanda che cosa farei io se fossi nei vostri panni per esempio è una dei tratti in sostanza non so se da Twitter sta arrivando qualche qualche suggestione perché vedo Fabio che sta seguendo la discussione in diretta ho parlato con qualcuno che qui era presente però la domanda che a me è piaciuta molto era proprio all'inizio 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 ed era aspettate la sto cercando ma di che stavo a parlare no era 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 appunto se veramente non la riesco a trovare non la trovo perdon non riesco a trovarla se fondamentalmente era appunto la storia quando cambia il paradigma Jobs ha cambiato veramente un paradigma e questa era la domanda che però ci abbiamo poi parlato successivamente quindi abbiamo risposto ampiamente pensandoci qualche giorno fa appunto una cosa del genere pensavo a una metafora stupida ma penso efficace nel momento in cui fai la maionese non basta mettere due uova un po' d'olio eccetera e la maionese ti viene per forza Steve Jobs è stato un artista a fare la maionese cioè lui prendeva ingredienti che già tutti usavano però la faceva più buona degli altri e riusciva a venderla e quindi ovviamente è una metafora molto stupida però penso che renda bene l'idea di dove era la sua capacità era un cuoco era un bravo cuoco riusciva a prendere gli ingredienti che avevano tutti gli ultra mobile pc della microsoft sono andati anni prima dell'iPad ma non hanno avuto il minimo successo perché la batteria non dura il sistema operativo non dura la presentazione del piatto e te lo racconta è esattamente una metafora perfetta in realtà perché il design è poi il racconto del piatto che ti presenta quindi lui ti dice come è stato costruito quel piatto quindi la metafora è assolutamente perfetta allora se in America stanno discutendo su Steve Jobs l'italiano il prossimo anno possiamo ripartire da qui Steve Jobs il cuoco ok? abbiamo il titolo per il prossimo anno giusto per chiudere poi veramente forse ho esagerato con mio figlio comunque questo è mio figlio che usa l'iPad e dice stat up invece che missili quindi forse qualcosa di sbagliato l'ho fatto ok grazie a tutti buonasera grazie a tutti grazie a tutti